Buonasera amiche e amici, questa ricetta la voglio dedicare a una mia amica, Steffi Bianco, che mi ha chiesto di farle una ricettina semplice, allo stesso tempo leggera, però alquanto gustosa. Facciamo il polpettone di tonno. Per questa ricetta mi servono 4 scatolette di tonno da circa 80 grammi, 56 grammi sgocciolato, al naturale, naturalmente. Allora, andiamo a sgocciolare il nostro tonno e lo mettiamo in una zuppiera. Dopo aver sminuzzato per bene il tonno al naturale, aggiungiamo un uovo. Adesso andiamo a mettere un pizzico di pepe nero. Aggiungiamo anche giusto un pizzichino di sale, perché il tonno già ne contiene. Un po' di formaggio grattugiato, a piacere grana o parmigiano. Un po' di pan grattato. E andiamo a emulsionare il tutto. Ho aggiunto anche un po' di prezzemolino tritato e adesso faccio un'altra mescolata. Allora, una volta arrivato a questa consistenza, prendo uno stampino, che io uso proprio per fare i polpettoni, quando sono piccolini. Calcolate, questo è un polpettone per 2-3 persone. Insomma, sono 4 scatolette di tonno. E vado a mettere l'olio d'oliva. Una volta messo l'olio d'oliva, amiche, quindi, vedete, ho messo il polpettone nello stampino, adesso lo vado a stendere per dargli la sua forma. Allora, amiche, fatto questo, adesso vado a mettere un po' di pan grattato sul mio composto. Allora, dopo aver messo il pane grattato, così, o spolverizzato, vado a mettere qualche fiocchetto di gradina vegetale. Perché sto facendo una ricetta molto leggera, altrimenti potete utilizzare anche il burro, sempre leggero, con gli omega 3. Io in questo caso metterò un po' di gradina vegetale. Allora, fatto questo, ragazze, vedete, ho messo i miei tre fiocchetti di gradina vegetale, margarina vegetale o gradina, come la volete chiamare. Vado ad infornare in forno preriscaldato a 180 gradi per circa una ventina, 20-25 minuti. Poi, con uno stuzzicadente, farò la prova della cottura. Nel frattempo che il peperone cuoce, mettiamo in un bicchiere una certa quantità di olio extravergine di oliva. Penso che basti, per quello che mi serve. Sì, va bene. Aggiungiamo un po' di prezzemolo tritato nell'olio. Una spremuta di mezzo limone. Se è piccolino come il mio, lo potete mettere anche intero. Opla. Ma io non ne metto tanto. Andiamo ad emulsionare con un cucchiaino da caffè, in questo modo, girando molto velocemente, per creare quasi come una cremina. Intanto il mio polpettone, appena è uscito dal forno, è pronto. Andiamolo a mettere in un piatto tagliato a fettine. Allora, amiche, vedete il mio polpettone, con la sua salsina di olio, limone e prezzemolo, è stato tagliato a fette e messo in un piatto. Al centro, come decorazione, mettiamo una metà di un piccolo limone. E niente, Stefi, spero che questa ricettina ti sia piaciuta e sia piaciuta a tutti quanti voi, quando volete mangiare con gusto, in maniera sana e leggera. E se il video vi è piaciuto, mettetemi un like, iscrivetevi al mio canale e che dirvi di più. Alla prossima ricettina, ciao ciao!